Allora, vediamo di essere chiari perché Saverio mi ha cazziato l'altra volta. Allora, L e B. Queste sono due radici, che sono molto simili perché la B e la V in europeo sono la stessa lettera, non cambia niente. Da queste due radici discende un verbo fantastico che è questo. L'U. 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 Lo conosci anche tu. L'U. 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 Significa star bene, essere felici. No, questo non lo sapevo. Eh? Non lo sapevo. Libiamo. Libiamo. Quando libiamo siamo felici perché è una cosa che ci fa felici. Però da questo L e B, che è la radice di libertà, questo è ovviamente chiaro, discendono tantissime altre parole. Per esempio, Libe. Amore. In tedesco. Tedesco. Ma love. Amore. In? Quindi amore e libertà. E' avanti. Life. Life. Vita. In inglese. Life. Stesso. Noi, levità, levitas, lieve, lieve, dolcezza. Quindi L e B è proprio una magia. Qui è la magia iniziale di una serie di parole che sono nate da questa, e da cui anche libertà ovviamente. Non lo scrivo nemmeno perché è la patenza, è proprio quella, è assolutamente quella. Guarda che unione, che massa di parole belle partono da questa radice. E quindi possiamo definirla la libertà. La libertà è l'unione, la somma, è di tutto ciò che ci fa vivere, life, è tutto ciò che ci permette di esprimere ciò che amiamo, no, amiamo è qua, amiamo, senza violenza. In modo lieve, in modo leggero. Mi piace. Lavoro? Il lavoro, lavoro, oh qui, questa è bellissima. Il lavoro deriva da lab, chiaramente. E' uno strano passaggio questo, eh. Lab. Sempre lab. Con l'h in fondo. Sì, il verbo greco lambano, lambano. Devo scrivere tutto abbastanza preciso perché se no... Con la tua consueta chiarezza che solo i farmacisti riescono a recrittare. L'ambano, adesso si legge però, non dimmi che non si legge. Lambano che in greco significa prendere, afferrare, quindi è uno strano passaggio perché c'è un passaggio linguistico forte nel tempo in cui questo afferrare significa volgersi verso qualcosa che in ogni caso, con mezzi, con i mezzi, con i mezzi della volontà e dell'opera. Dell'azione. E quindi che siamo già vicini al significato. In latino, in latino, lavorare, come il professore Lassuvi sta dicendo, sicuramente lo sa. Lavorare non significa solo lavorare. Significa ottenere con fatica. Quindi c'è un concetto di sforzo. C'è lo sforzo. Il faticare dei napoletani. Va da faticare. È vero. E vado a lavorare. Definizione. Mi prendo Anna Arendt per la definizione. Mi permetto di prendere Anna Arendt. Innanzitutto il lavoro è dignità. Non ci sono altre definizioni fondamentali. Stasera avremo modo di dire che purtroppo non sempre è così. Non sempre è così, ma è dignità. Perché Anna Arendt? Perché Anna Arendt definisce la dignità. La definisce come il diritto ad avere tutti i diritti. Il lavoro è un diritto inalienabile per costruire un mondo migliore per me e per tutti. Poi la terza. C'è ancora un'ultima parola. Siamo in momento. Il partigiano. Eh beh sì, diciamo che... Questo è bellissimo. Di parte, no? Sì, a momento però, perché questa è una cosa che nemmeno ti immagini. Quindi, partenzianus, che era il termine con cui si definiva addirittura cattone all'uticense, che si è suicidato per la libertà. Partenzianus. Guarda che è diviso in due. Part, ensis. E cosa vuol dire? C'è parte? C'è parte, gruppo, parte. Spada. Ah, la spada. Cioè arma. Cioè un gruppo che si arma per la libertà. Quindi c'è anche, c'è il concetto quindi anche di... C'è già il concetto in antichità, lo sapevano già i latini, quindi l'abbiamo ricreato noi ed è una parola bellissima. Essere partigiani è bellissimo. Io so, ora non so cosa mi devi dire, ma mi hanno detto, questa sera Roberto ti farà commuovere. È vero? Io ti faccio commuovere. Sì, ma hanno detto che... Io ti faccio commuovere. Ciao.